26 aprile 1986. Alle ore 1 a 23 minuti e 45 secondi locali, durante un test sulla sicurezza nella centrale nucleare di Chernobyl, precisamente sul reattore numero 4 sito in Pripyat, per un presunto errore del personale al lavoro in quel momento, accade l'irreparabile. Il test doveva essere condotto di giorno, da personale appositamente preparato ma, a causa di un parallelo calo nella rete che forniva l'energia alla vicina Kiev, il via libera per ridurre la potenza del reattore di Chernobyl senza rischiare deficit di fornitura, venne dato solo di notte, quando era in servizio il personale del turno successivo, completamente all'oscuro delle procedure di emergenza. L'esplosione e il conseguente incendio del reattore numero 4 provocano, a TAT oggi, il più grave disastro nucleare della storia. Tra le pagine di questo libro, rivivono per immagini testi, contesti, visionari e fantasmatici di un multiverso comunque appartenente alla nostra più recente storia contemporanea.